Il formato della conferenza è tipico di tutte queste conferenze ICCF, quindi comincia una domenica sera e la giornata della domenica sarà dedicata al corso. Come sapete, ci sono tanti tipi di locali, c'è l'arropa internazionale di Umbria, soltanto 20 anni, o meno, e come vengono direttamente con Bruxelles, Catania, Francforte, Londra, se no c'è Roma che dista due ore prima. Due e mezza. Il treno quant'è Stefano? Quanto è il treno Roma a Sisi? Quante ore di treno? Due ore. Ecco, l'ho preso stamattina, c'è l'anno stato tacciato via. Più fiumicino, un'altra mezz'ora, due ore e mezza da fiumicino. Comunque, se venite in macchina c'è un ampio parcheggio gratis, se venite in treno giusto dieci minuti a piedi dall'albergo. E' stato un grosso problema trovare un albergo all'altezza, abbiamo dovuto scattare diversi alberghi cattivi, bad hotel in inglese. Invece, questo è il posto che abbiamo scelto, Domus Pacis, e anche questo è un centro non proprio religioso, però gestito dai frati. Io ci sono stato già due o tre volte, mi trovo molto bene. Penso che la lascerei qua senza leggere tutto questo. Allora, c'è qualche domanda? Sì, no, voglio dire una cosa, che sul sito, come si legge, HTTPS, due punti, ICSNN.org, 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 ICSNN.org. Giustissimo. Ecco, ci sta già la, come si dice, è aperta la conferenza di iscrizione. Volevo anche domandare se qualche persona qui di Assisio, di Perugia, che volesse partecipare, pagherà qualcosa per il pranzo? Il budget per i non residenti non è ancora determinato, però immagino che sarà la metà della cifra standard, che adesso è a 700 euro e diventerà 800 al primo giugno. Quindi avete un po' di tempo ancora per versare i soldi. Quindi vuol dire il sito ufficiale della charity, come si chiama, ICSNN.org, 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 ICSNN.org. Ecco, questo è il sito dove già ci si può cominciare a iscrivere il costo dell'iscrizione comprensiva del pernottamento, di tutti quanti i servizi che ci saranno, quindi sarà in iscrizione conferenza e pensione completa, partendo da domenica sera, mi pare, da domenica sera fino a venerdì mattina, compreso il banquet e compreso tutte quante le... al perfino le escursioni? Sì. Ok, benissimo. Detto questo, fate anche passaparola di questo evento anche agli amici di Assisi e di Perugia che possono partecipare. Saremo in una sala che contiene già circa 250 persone, quindi a parte i convenisti c'è spazio ancora per queste tre persone. Grazie a tutti.